Commentiamo subito la partita. Un bel Pescara è vero, ha meritato ampiamente questo pareggio, però il Cosenza vince, le altre vincono, servono vittorie. Sì, siamo contenti per la prestazione, ma non siamo contenti per il risultato. Si è visto un Pescara vivo, un Pescara coraggioso. Dobbiamo avere un pochettino di presunzione in più, è quello che ci manca in questo momento qua. Un po' di presunzione per cercare di andare a vincere una partita. La squadra però non ha mollato di un centimetro e questo è un buon segnale, però stiamo parlando dell'ennesimo pareggio e che noi tocca i punti per vincere. Le scelte di Grassadoni hanno un po' penalizzato la qualità dell'organico, nel senso giocatori come Capone, Giannetti va bene dal punto di vista fisico, non ha i 90 minuti, ma Macin, insomma fuori. Come lo vede questo aspetto, Bocchetti? Ma noi comunque affrontavamo una squadra molto forte, una squadra che è importante, quindi dovevamo avere un equilibrio importante per tutti i 90 minuti. Andare all'arma bianca e prendere tre golle anche da Lecce onestamente non ci sembrava il caso. Dovevamo sfruttare le occasioni che ci sono capitate, ci sono capitate parecchie occasioni, ma se non c'è equilibrio in questo momento qua noi abbiamo bisogno di questo. E quindi pensare a non prendere golle e cercare di sfruttare le occasioni che ci capitano. Nel secondo tempo ci sono capitate più di un'occasione importante. Mentre la squadra Massimo, vedete alle mie spalle, sta lasciando con il pullman lo stadio, voglio chiedere a Bocchetti la condizione degli indisponibili. Cominciamo con Sorensen. Sorensen dovrebbe rientrare per martedì, anche Rigoni. Dobbiamo valutare adesso la situazione di Setter, di Bocchetti e di Tabanelli in questi giorni. Però Tabanelli avevamo detto solo un crampo, addirittura con un crampo è da valutare per martedì? Giochiamo martedì, è normale che non possiamo rischiare un giocatore senza fare esami strumentali. Quindi aspettiamo gli esami strumentali e poi vediamo il da farsi. Quindi certi rientri solo di Sorensen e Rigoni al momento? Questi sì. Chiedono da studio sul fatto che lei ha detto soddisfatto della prestazione, ma se non avesse pareggiato Busellato al 91esimo avrebbe detto la stessa cosa? Sì, soddisfatto della prestazione perché la squadra ci ha creduto fino alla fine. Noi abbiamo avuto un'occasione d'oro con Odgar, penso un quarto d'ora prima, un'occasione con Giannetti che non è arrivato per un centimolo, lo stesso Odgar che non è riuscito a chiudere un cross di De Sena. Noi abbiamo avuto parecchie cose nel secondo tempo. È normale che abbiamo bisogno di quel pizzico di fortuna in questo momento qua che ci gira un po' storto però. La fortuna ce la dobbiamo ricercare noi. Ci manca un pochettino di precisione, un pochettino di inconscienza, un pochettino di coraggio in più per cercare di vincere le partite. Chiede Fabio Ferraresi che ti saluta e che ha ricordato che ha fatto anche qualche partita con te agli inizi della carriera, che Grassadoni ha detto in conferenza che servono giocatori che determinano, però poi i giocatori che determinano sono quelli di qualità, se d'accordo? Il problema di mettere giocatori di qualità in questo momento qua, affrontando un Lecce che comunque lascia tre giocatori in avanti, sempre fisso, senza una fase difensiva, è normale che noi dobbiamo avere qualche giocatore in più di corsa per avere equilibrio e per cercare comunque di tamponare ai loro attacchi. Una volta recuperato palla, potevamo innescare un pochettino meglio i quinti e meglio le due punte. Il primo tempo comunque è stato un primo tempo equilibrato, tranne quell'azione che ha fatto Meccariello, che hanno fatto gol, ma almeno il Lecce non mi ricordo di che ti importava fare il Lecce tutta la partita. Adesso in poi però si può provare ad offendere un po' di più, perché la classifica è pericolosa, parla chiaro, serve anche rischiare qualcosa in più di quello che è nelle corde della squadra in questo momento, perché Grazadonia, se non erro, Massimo, correggimi tu da studio, ha detto che ho sempre giocato con un centrocampista, uno dei tre centrocampisti di qualità, ma al momento la squadra non è pronta. Però probabilmente bisogna anche correre un pizzico di rischio in più, visto la classifica, Bocchetti. Allora, noi avevamo un quinto, che era bella nuova, e un quinto, che è masciante, sono due quinti, comunque non sono difensivi. Abbiamo un Memushai, che è un giocatore di qualità, e abbiamo due attaccanti. È normale che il resto dei giocatori devono essere giocatori di gamba, e diciamo che Busellato, anche se è un giocatore comunque di gamba, ma è l'unico giocatore che si butta negli spazi. Quindi, al di là della qualità, ne abbiamo bisogno pure di tanta corsa in questo momento qua. Poi dopo, i giocatori di qualità ci sono, li ha messi. Abbiamo pareggiato la partita, potremmo vincerla, se Odgar avesse fatto gol, o se il portiere avesse fatto un miracolo importante. Però siamo sempre lì, dobbiamo usare di più, ma non come singolo, ma soprattutto come squadra. Dice Massimo Profeta da studio, mancano 13 partite alla fine, per dare più qualità e dare spazio anche a più giocatori di qualità che in organico, se Grassadonia sta anche pensando a riportare anche la linea difensiva a quattro. Non so se subito, magari in futuro. Ma potrebbe fare, perché l'ha sempre fatto, quindi non è il problema del modulo, di come giocare. Il problema è l'equilibrio di squadra. O a tre o a quattro. Noi quando abbiamo attaccato, abbiamo attaccato in tanti e abbiamo difeso in tre. Oggi abbiamo difeso in tre, soprattutto in secondo tempo, quasi tre contro tre. Quindi non è questione di moduli, di uomini, ma è questione di atteggiamento. Se il nostro atteggiamento è quello del secondo tempo, possiamo giocare proprio con i difensori. Significa che noi andavamo a attaccare gli amanti.